C'è città di José Saramago. L'idea era uscita dalla testa del ministro in persona. Era, da qualsiasi lato la si esaminasse, un'idea felice, se non perfetta, sia per quanto riguardava gli aspetti meramente sanitari del caso, sia per le implicazioni sociali e le conseguenze politiche. Finché non si fossero appurate le cause, o per usare un linguaggio adeguato, l'eziologia del mal bianco, come, grazie all'ispirazione di un assessore fantasioso, l'indecorosa cecità aveva cominciato a essere designata, finché non si fossero trovate la terapia e la cura, e, chissà, magari un vaccino per prevenire l'insorgenza di casi futuri, tutte le persone che erano diventate cieche, nonché quelle che vi fossero state in contatto fisico e in vicinanza diretta, sarebbero state radunate e isolate, in modo da evitare ulteriori contagi, i quali, nel verificarsi, si sarebbero moltiplicati più o meno secondo ciò che matematicamente si suole denominare come progressione geometrica. Quod erat demonstrandum, concluse il ministro. In parole alla portata di tutti, si trattava, in sostanza, di mettere in quarantena tutta quella gente, secondo l'antica prassi ereditata dai tempi del colera e della febbre gialla, quando le imbarcazioni contaminate o solo sospette di infezione dovevano rimanere a largo per 40 giorni. Vediamo come va. Queste medesime parole, vediamo come va, intenzionali dal tono ma sibilline in mancanza di altre, furono pronunciate dal ministro che in seguito precisò il proprio pensiero. Volevo dire che potrebbero essere 40 giorni ma anche 40 settimane o 40 mesi o 40 anni, bisogna però che non escano. Adesso rimane da decidere dove li metteremo. Signor ministro, disse il presidente della commissione logistica di sicurezza, rapidamente nominata all'uopo, che avrebbe dovuto incaricarsi del trasporto, isolamento e rifornimento dei pazienti. Di che possibilità immediate disponiamo? Vole sapere il ministro. Abbiamo un manicomio vuoto, sfitto, in attesa di destinazione, alcune installazioni militari non più utilizzate a seguito della recente ristrutturazione dell'esercito, una fiera industriale in avanzata fase di completamento e c'è inoltre, non sono riusciti a spiegarmene il perché, un ipermercato in fallimento. Secondo lei quale sarebbe meglio ai nostri fini? La caserma è quella che offre migliori condizioni di sicurezza naturalmente, ha però un inconveniente troppo grande, il che renderebbe difficile e dispendiosa la sorveglianza degli internati, me ne rendo conto. Quanto all'ipermercato ci sarebbero da calcolare probabilmente impedimenti giuridici vari, questioni legali da tenere in conto. E la fiera, la fiera, signor ministro, credo sia preferibile non pensarci, perché all'industria non piacerebbe di certo, lì ci sono investiti miliardi. In questo caso resta il manicomio. Sì, signor ministro, il manicomio. E allora vada per il manicomio. Del resto, sotto tutti i punti di vista, è quello che presenta migliori condizioni, perché non solo è circondato da un muro per tutto il suo perimetro, ma ha anche il vantaggio di essere costruito da due ali. Da una da destinare ai ciechi propriamente detti e un'altra ai sospetti. Oltre a un corpo centrale che fungerà per così dire da terra di nessuno, attraverso cui coloro che siano diventati ciechi passeranno per andare a raggiungere coloro che lo erano già. C'è un problema. Quale, signor ministro? Saremo obbligati a mettere del personale per dirigere i trasferimenti? E mi sa che non potremo contare sui volontari. Non creda sia necessario, signor ministro, si spieghi meglio. Qualora uno dei sospetti di infezione diventi cieco, com'è naturale che succeda prima o poi, stia certo, signor ministro, che gli altri coloro i quali hanno ancora la vista lo metteranno fuori all'istante. Ha ragione. Proprio come non permetterebbero l'ingresso di un cieco cui fosse venuto in mente di cambiare posto. Buona idea. Grazie, signor ministro. Allora possiamo ordinare di procedere? Sì, a carta bianca. La commissione agì con rapidità ed efficacia. Prima di sera erano stati radunati tutti i ciechi di cui si aveva notizia e anche un certo numero di presunti contagiati, quantomeno quelli che era stato possibile identificare e localizzare con una rapida operazione di rastrellamento effettuata soprattutto negli ambienti familiari e professionali dei colpiti dalla perdita della vista. I primi a essere trasportati nel manicomio sgombrato furono il medico e sua moglie. C'erano soldati di guardia, il portone fu aperto giusto per farli passare e subito richiuso. A mo' di corrimano una grossa corda andava dal portone alla porta principale dell'edificio. Un po' più avanti, sulla sinistra c'è una corda. Afferratela e proseguite sempre dritto fino ai gradini. I gradini sono sei, gli avvisò un sergente. All'interno la corda si divideva in due, una diramazione a sinistra, l'altra a destra. Il sergente gli aveva urlato attenzione il vostro lato è il destro. Mentre trascinava la valigia la moglie guidava il marito verso la camerata che si trovava più vicino all'ingresso. Era lunga come un'antica infermeria con due file di letti che erano stati dipinti di grigio ma la cui vernice aveva cominciato a scrostarsi da un pezzo. I copriletti, le lenzuole, le coperte erano dello stesso colore. La moglie condusse il marito in fondo alla camerata, lo fece sedere su uno dei letti e gli disse non muoverti, vada a vedere com'è. C'erano altre camerate, corridoi lunghi e stretti, stanze che un tempo dovevano essere gabinetti medici, latrine sudice, una cucina che ancora non aveva perduto l'odore del cibo cattivo, un grande refettorio con tavoli dai ripiani rivestiti di zinco, tre celle imbottite fino all'altezza di due metri e rivestite di sughero da lì in su. Nel retro dell'edificio c'era un recinto in abbandono con alberi malandati, i tronchi sembrava che fossero stati scorticati, dappertutto si vede la spazzatura. La moglie del medico rientrò, in un armadio aperto a metà trovò alcune camicie di forza. Quando raggiunse di nuovo il marito gli domandò riesce a immaginare dove ci hanno portato? No, e stava per aggiungere in un manicomio ma lui la pervenne, tu non sei cieca, non posso consentirti di restare qui. Sì, hai ragione, non sono cieca, gli chiederò di portarti a casa, dirò che li hai ingannati per restare con me, non vale la pena, da fuori non ti sentono e anche se ti sentissero non ti darebbero retta. Ma tu vedi, per il momento la cosa più sicura è che diventerò cieca anch'io uno di questi giorni o fra un minuto. Vattene via per favore, non insistere, del resto scommetto che i soldati non mi farebbero neanche mettere piede sui gradini. Non ti posso obbligare, infatti no amore mio non puoi, resto per aiutare te e gli altri che verranno, ma non dir loro che ci vedo. Quali altri? Non crederai che saremo gli unici? È una follia, per forza siamo in un manicomio. Gli altri ciechi arrivarono insieme, li avevano presi nelle rispettive case, uno dopo l'altro, quello dell'automobile prima di tutti, il ladro che l'aveva rubata, la ragazza dagli occhiali scuri, il ragazzino strabico. No, lui no. Lui andarono a prenderlo all'ospedale dove la madre lo aveva portato. La madre non era con lui, non aveva avuto l'astuzia della moglie del medico, dichiarare di essere cieca senza esserlo. È una creatura semplice, incapace di mentire anche a fin di bene. Entrarono nella camerata, inciampando, brancolando nel vuoto. Qui non c'erano corde a guidarli, avrebbero dovuto apprendere a spese dei propri dolori. Il ragazzino piangeva, voleva la mamma e la ragazza dagli occhiali sculi cercava di calmarlo. Ora viene, ora viene, gli diceva e siccome portava gli occhiali poteva essere cieca, ma poteva anche non esserlo. Gli altri muovevano gli occhi da un lato e dall'altro e non vedevano niente, mentre lei con quegli occhiali, solo perché diceva ora viene, ora viene, sembrava quasi che stesse vedendo entrare dalla porta la madre disperata. La moglie del medico avvicinò le labbra all'orecchio del marito e sussurrò, ne sono entrati altri, quattro, una donna, due uomini e un ragazzo. Gli uomini che aspetto hanno? Domandò il medico a voce bassa. Lei li descrisse, lui, quello lì non lo conosco. L'altro, da come l'hai descritto, ha tutta l'aria di essere il cieco venuto in ambulatorio. Il piccolo ha uno strabismo e la donna porta occhiali scuri, sembra carina. Ci sono venuti tutti e due per via dei rumori che facevano mentre cercavano un posto dove sentirsi sicuri. I ciechi non udirono questo scambio di parole, probabilmente pensavano non ci fosse nessun altro nelle stesse condizioni e non avevano perduto la vista da sufficiente tempo perché il senso dell'udito gli si fosse avviato al di sopra della norma. Infine, quasi fossero giunti alla conclusione che non valeva la pena lasciare il certo per l'incerto, ciascuno si sedette sul letto contro cui aveva per così dire inciampato. Vicinissimi i due uomini, ma senza saperlo. A voce bassa la ragazza continuava ad ascoltare il ragazzino. Non piangere, vedrai che la tua mamma non tarderà. Poi si fece silenzio e allora la moglie del medico disse, in modo da essere udita in fondo alla camerata, dove era la porta. Qui siamo in due, quanti siete voi? La voce in attesa fece sobbalzare i neoarrivati, ma i due uomini rimasero zitti. Rispose la ragazza. Siamo quattro, credo. Qui ci siamo questo bambino e io. Chi altri? Perché gli altri non parlano, domandò la moglie del medico. Ci sono io, mormorò, come se gli costasse pronunciare le parole, una voce di uomo. E io, borbottò a sua volta, contrarregata, un'altra voce maschile. La moglie del medico si disse fra se e se si comportano come se temessero di farsi riconoscere. Li vedeva contratti, tesi, il collo allungato, come se fiutassero qualcosa, ma curiosamente le espressioni erano simili, un misto di minaccia e di paura. Eppure la paura dell'uno non era come quella dell'altro e non lo erano neppure le minacce. Che ci farà fra costoro, pensò. In quel momento si udì una voce forte e secca, voce di qualcuno che dal tono sembrava abituato a dare ordini. Veniva da un altoparlante fissato sopra la porta, do cui erano entrati. Fu pronunciata tre volte la parola attenzione. Poi la voce attaccò. Al governo rincresce di essere stato costretto a esercitare energicamente quello che considera suo diritto e suo dovere, proteggere con tutti i mezzi la popolazione nella crisi che stiamo attraversando, quando sembra si verifichi qualcosa di simile a una violenta epidemia di cecità, provvisoriamente designata come mal bianco, e desidererebbe poter contare sul senso civico e la collaborazione di tutti i cittadini per bloccare il propagarsi del contagio, nell'ipotesi che di contagio si tratti, nell'ipotesi che non ci si trovi unicamente davanti a una serie di coincidenze per ora inspiegabili. La decisione di riunire in uno stesso luogo tutte le persone colpite e in un luogo prossimo ma separato quelle che con esse abbiano avuto qualche tipo di contatto non è stata presa senza seria ponderazione. Il governo è perfettamente consapevole delle proprie responsabilità e si aspetta da coloro ai quali questo messaggio è rivolto che assumano anch'essi da cittadini rispettosi quali devono essere le loro responsabilità, pensando anche che l'isolamento in cui ora si trovano rappresenterà, al di là di qualsiasi altra considerazione personale, un atto di solidarietà verso il resto della comunità nazionale. Detto ciò, richiamiamo l'attenzione di tutti alle istruzioni che seguono. Primo, le luci si manterranno sempre accese. Sarà inutile qualsiasi tentativo di manovrare gli interruttori, non funzionano. Secondo, chi abbandonerà l'edificio senza autorizzazione verrà immediatamente passato per le armi, ripeto immediatamente passato per le armi. Terzo, in ogni camerata esiste un telefono che potrà essere usato solo per chiedere all'esterno prodotti per l'igiene e la pulizia. Quarto, gli internati laveranno manualmente i propri indumenti. Quinto, si raccomanda l'elezione di responsabile di camerata, si tratta di una raccomandazione, non di un ordine. Gli internati si organizzeranno come meglio credono, purché rispettino le regole suddette e quelle che verranno enunciate qui di seguito. Sesto, tre volte al giorno saranno depositate razioni di cibo alla porta d'ingresso, a destra e a sinistra, destinate rispettivamente ai pazienti e ai sospetti di contagio. Settimo, tutti gli avanzi dovranno essere bruciati, considerandosi avanzi. All'uopo, non solo ogni tipo di cibo avanzato, ma anche le casse, i piatti e le posate che sono di materiale combustibile. Ottavo, l'operazione dovrà essere effettuata nei cortili interni dell'edificio o nel recinto. Nono, gli internati sono responsabili di tutte le eventuali conseguenze di tali operazioni di incenerimento. Decimo, in caso di incendio, sia esso fortuito o intenzionale, i pompieri non interverranno. Undicesimo, gli internati non dovranno contare su alcun tipo di intervento dall'esterno, nell'ipotesi che fra di essi si verifichino malattie, nonché l'insorgere di disordini o aggressioni. Dodicesimo, in caso di morte, qualunque ne sia la causa, gli internati sotterreranno senza formalità il cadavere nel recinto. Tredicesimo, la comunicazione fra l'ala dei pazienti e l'ala dei sospetti di contagio avverrà tramite il corpo centrale dell'edificio, lo stesso da cui siete entrati. Quattordicesimo, i sospetti di contagio che dovessero diventare ciechi passeranno immediatamente nell'ala destinata a coloro che già lo sono. Quindicesimo, questa comunicazione sarà ripetuta tutti i giorni a questa stessa ora per conoscenza dei nuovi ammessi. Il governo e la nazione si aspettano che ciascuno compia il proprio dovere. Buonanotte.